Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video rivelato il primo tactical try deck il primo deck dei tre ovvero Saber Drago, Eldritch e Devil Twin che, che vi devo dire, vi devo dire parte bene già dalla scala quindi ora vediamo il contenuto però insomma pare essere molto figo prima di iniziare ragazzi sempre invito a iscrivervi al nostro canale e prima di andare sempre aggiornati ricordo l'iscrizione ci ha dato tantissimo in modo epocale grazie e vi ringrazio detto ciò vediamo questo strutture deck ricordiamo che non ci sono nuove carte in questi tre strutture deck e vediamo esce in Giappone a giugno e vediamo cosa c'è allora tre Cyber Draghi, tre Cyber Drago Core, due Hertz, un Hatch Ster, un Cyber Dark Chimera dopo le andiamo a vedere ovviamente le immagini Gizurku, pure Regulus, due Galaxy Soldier, due Ash e due Max-C due Power Bond, Cyber Emergency, Repair Plant, Cyber Dark Ream, Machine Duplication, due Clockwork Knight addirittura Trust e Talent, Sales Ban, Rai Jackie, Duster, due Storm, due Colled, un Droplet, un Red Reboot, Impermanence come extra deck 10 carte quindi abbiamo Cyber Dago Finale, il Gemello dovrebbe essere Chimera deck Mega Flotta, Fortress Rampage, Nova Infinity, Seeger, Asalea che in realtà è pure bella rotta e Al Mirage vediamo le immaginine e commentiamo allora in realtà come Strutture Deck mazza che roba cioè è fortissimo ovvio io ho una roba completa non me la immagino mai neanche in OCG però c'è molto vicino cioè fondamentalmente ti basta prendere questo e giocarci ovvio servono anche magari nelle cartine da aggiungere per esempio già quelli in permanenza lì lo metterei a 3 per, no? per dire però insomma cioè hai TTT tutte e due le TTT hai pure Droplet hai anche Ban che in realtà non è per niente male hai praticamente tutto il Cyber Drago con le carte effettivamente si giocano perché Magister fondamentalmente non è che lo giochi a tante copie massimo uno credo poi anche Galaxy Sold e Regulus anche hai anche Regulus insomma diciamo parte come deck per giocare è una bestia è una bestia anche perché c'è il comparto extra deck sì mi manca magari qualcosa di anche generico però insomma c'hai praticamente tutto quello che ti serve c'è pure Mega Flotta che non è che sia così tanto facile magari da ottenere tra virgolette no? Asalea che comunque è fortissima è fortissima anche perché è generica fondamentalmente qui dentro hai praticamente tutti gli spacchini di questo mondo perché c'hai due Storm un Reject un Duster Power Bond Plant hai praticamente tutto Cyber Emergency anche like War Knight più che altro quindi ovvio non tirano mai tutto completo però per partire è una roba veramente immonda e mi ricorda tanto anche per il fatto che c'hai due per delle HT mi ricorda tanto magari i deck leggendari perché anche loro i deck leggendari non erano completissimi magari erano meno forti di questi però comunque avevano quella sorta un po' più di completezza tra virgolette quella forza in più che che insomma rendeva i deck per nulla male comunque un pochino ci potevi giocare sempre con le aggiunte però già prendendoli di per sé così ci potevi giocare ecco quello che spero vivamente è che al momento sti tattiche oltre ai deck sono esclusivi ocg e col cazzo che arrivano col cavolo che arrivano qua quindi purtroppo il grande purtroppo è questa cosa però la speranza è che arrivino sotto forma di deck leggendari se arrivano sotto forma di deck leggendari cosa che io spero ma non credo possa accadere perché è troppo conveniente troppo bella come cosa sarebbe tanta roba certo togli magari i due max e ceci e metti i due in permanence per dire no ci potrebbero stare togli un colled e ci metti un'altra ascia o magari un mostro macchina da mettere qui comunque voglia te ce ne stanno oppure aggiungi un ascia o metti qualche cyber dark insomma potrebbe uscire qualcosa di veramente figo anche perché comunque c'è pure il cyber drago infinito che non è male che comunque in deck leggendari ce l'avevano il cyber drago quindi non sarebbe perdona male togli anche red reboot ovviamente devi adattarlo in modo che può essere illegale in tcg un trust in cui deck farebbe gola farebbe veramente gola sarebbe molto apprezzato ma anche regolus di per sé comunque molto molto buono quindi come strutture deck questo è fortissimo è fortissimo perché ripeto ci puoi giocare anche senza aggiunte servirebbero ma puoi giocarci anche senza aggiunte soprattutto se è stato fatto per far giocare magari chi riprende o chi inizia o chi per la prima volta vede un mazzo di nio che vuole provare a giocare c'ha abbastanza risorse più che abbastanza risorse e quindi tanta roba no in realtà l'unica pecca è l'uno per di permanence ecco l'uno per di permanence magari io l'avrei messo due per perché insomma l'uno per cosa mi significa l'uno per di permanence almeno due almeno due insieme alle altre ht dai almeno due due permanence sarebbero stati però va bene compensano tutto viene compensato tutto il resto quindi veramente forte veramente molto molto forte siamo curiosi di vedere anche gli altri anche se il twin non ho mai toccato in vita mia quindi non saprei molto come giudicare magari la sua potenzialità però ovviamente vedremo e anche eldrich comunque avere un deck di eldrich già fatto insomma non è per niente male non è per niente male quindi staremo a vedere che cosa ci verrà proposto però a parte vabbè si pure la scatola è fighissima con il sevedraco finale in copertina così purtroppo sono cose che noi non vediamo mai sono cose che noi non vediamo mai ma ci farebbero veramente piacere il problema è che comunque non è che sarebbero dei prodotti che non vengono comprati anzi io penso se esce una roba del genere viene esaurita tempo zero però insomma a quanto pare non siamo ancora degni di questa roba e niente rimane il peccato di non poter avere una roba del genere è un peccato è un peccato è un peccato nella speranza appunto che comunque li facciano sotto farò dei deck leggendari li staremo a vedere e aspettiamo insomma magari se ci saranno notizie detto questo ragazzi fatemi sapere assolutamente voi cosa ne pensate se anche per voi comunque è un mazzo che insomma se la spigna e se volete magari vederlo qui è una domanda retorica perché io credo che tutti lo vogliono vedere qui è una domanda retorica assolutamente però non si sa mai non si sa mai anzi tra l'altro su structure deck quando si annuncia non si annuncia mai vabbè detto questo ragazzi fatemi sapere appunto cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti